Due giornate di agonismo allo stato puro, ma come sentirete anche due giornate di pesca green. Il 36esimo campionato italiano drifting potrebbe essere sintetizzato così. Oggi pomeriggio, presso l'Anfiteatro della Marina di Pescara, la cerimonia inaugurale con la presentazione dei 39 equipaggi, 5 dei quali abruzzesi, provenienti da tutta Italia. Domani è sabato, la gara in mare a caccia del tricolore. Dino Benzi, referente federale Big Game, spiega la scelta di Pescara. Abbiamo scelto Pescara perché siamo stati qua due volte per il campionato italiano di treno a costiera. Abbiamo visto che il club è un club attivo, organizzato, che ha fatto le cose molto bene. Ci hanno avanzato questa richiesta di poter fare il campionato di drifting. Io personalmente, avendo avuto le esperienze precedenti, glielo ho assegnato volentieri, molto volentieri. Si diceva campionato green, e sì, perché è obbligatorio rilasciare il pesce vivo in mare, come sottolinea il presidente regionale Fipsas Carlo Paolini. Nel senso che il pesce non viene catturato, viene misurato tramite un'asta, viene filmato e viene rimesso in acqua. E soprattutto viene dato anche un tempo limite alla cattura, perché chiaramente il pesce, come anche il pescatore, ne risente. Quindi c'è un tempo limite di mezz'ora, oltre il quale il pesce non può più essere combattuto e il filo va tagliato in ogni caso. Paolini poi ci dà due gustose anticipazioni. Quest'anno ci sarà un campionato del mondo per un altro tipo di disciplina, che si fa nelle acque interne. Truttaria, si chiama una disciplina nuovissima, molto seguita dai giovani. L'anno prossimo invece avremo un campionato del mondo di surfcasting, cioè quella pesca che si fa dalla spiaggia, riservata alla categoria Master. E la faremo qui in Abruzzo, stiamo ancora vedendo la location. Sarà presente alla due giorni il commissario tecnico della Nazionale Drifting, Mirko Eusebi. Soddisfatto perché la settimana scorsa due equipaggi italiani presenti a Pescara hanno conquistato oro e argento ai mondiali. Da questi campionati italiani cosa si aspetta? Mi auguro che vengano degli atleti per poter fare lo stesso risultato quest'altro anno che sarà sempre fatto in Italia, il campionato del mondo. E quindi da qui vengono fuori gli atleti che formeranno le due nazionali. Chiusura con Maurizio Scurti, presidente della Dolphin Club Pescara, la società che ha organizzato l'evento insieme ad Assonautica Pescara. La linea di Pescara ha ospitato diverse volte i campionati italiani. Volete fare il salto di qualità? Veramente noi eravamo in lizza per i mondiali e se lo dico tutto abbiamo rifiutato il mondiale. La pandemia? No, molto la pandemia perché andavamo incontro, non sapevamo cosa andavamo incontro quindi siamo rimasti in po' fede. Però mai dire mai perché con la federazione abbiamo un ottimo rapporto, loro ci considerano. Poi abbiamo questa struttura che tutti gli equipaggi che sono venuti, che non conoscevano il marino di Pescara, sono rimasti proprio meravigliati. E noi con queste campionate abbiamo dato la possibilità a persone, quasi 250 che vengono da fuori, di conoscere questa struttura. È la nostra città.